Dovremmo dire ciao ragazzi ma diciamo buonanotte ragazzi, anzi buonanotte dopo, come vedete che tanto siamo in un locus amerus ovvero in un posto un po' particolare, una location molto suggestiva, suggestiva adatta per tutto, per storie d'epoca, Stavamo in Francia, a Versailles, sotto la legge di Luigi, abbiamo un sonno veramente disumano perché Parigi è veramente distruttiva, dobbiamo dire, queste serate sono 3.40, un sonno disumano, prestiamo ad andare a letto, Però noi non andiamo ad essere, non abbiamo dato una miniatura buonanotte ai fans, soprattutto perché ci mancano molto, e anche noi mancano a loro sicuramente, non ce lo dicano, Non ce lo dicono perché si, vergogna, ci sono 41 iscritti, che purtroppo frenano, hanno anche palpitazioni, aspettano con ansia, ci aspettano, ci vogliono, ci desiderano, Domani dovremo registrare gli episodi sul MotoGP, poi non spoileriamo niente però, Forse diciamo, forse se mi ricordo, poiché in Francia non si sa se riesce a connettersi, Si, si, a Italia 1 Sarà un po' un problema, ma Si, sennò lo perderemo niente, noi confidiamo in un anno, noi confidiamo in un anno, ci vuole molto bene, in grado di regalarci, si, a darci grandi emozioni, insomma. Poi cosa vogliamo dire, diciamo qualcosa, non facciamo un video banale. Dobbiamo salutare qualcuno a quest'ora. Si, salutiamo ancora lei che dorme sempre. Ma non dorme mai. Ma non dorme mai. Ciao Elena. Ciao. Comunque, no, seriamente, facciamo, diciamo, facciamo un discorso serio. A lei? No, alle donne. Alle donne. Alle donne. Donne. È arrivato. Ragazzi, sono sonni. Guardate quello come dorme. No, no, non lo dici. Allora è torta. Tanto dorme, nasce. Insomma, dorme. Si dorme, dorme. Dorme, dorme. Avete visto se era cavato le occhiali per fare un video serio, che un video serio non è, però, non so. Ti paura che il telefono è un po' torta, non so se si è bravo. È uguale, come l'attore di pizza. Ok. E voleva morire. Brizzalo, regista. Registra. Chiude. Bravo. Ragazza. Stasera si vede che abbiamo uno, se arriva, uno professionista. Profio, questo viene da... Dai, non dilunghiamoci troppo, se non lo guardano. Non lo guardano, comunque. No, lo guardano, non lo so. Dai, salutiamo le signore. Salutiamo le signore in giallo. Signore in giallo, anche in rosa. Legge. Anche le in giallo, soprattutto, ci tiene molto a noi. Ci vuole bene. Non so perché, ti avete detto questa cazzata, come sempre, te la potevi risparmiare. Sì, no, no. In questi momenti di crisi, inutile risparmiare le patute. Allora. Dobbiamo portare avanti la finale. La più tristezza. E, insomma, niente, salutiamo e ci vediamo. Salute. Ciao. A Dio. Buonanotte.